Lo scorso 18 ottobre in conferenza stampa al comando provinciale dei Carabinieri veniva resa nota la maxi operazione antidroga denominata Green River che ha portato alla scoperta di una piantagione di marijuana tra Naro e Campobello di Licata e al sequestro di oltre 30 tonnellate di droga. Il processo scaturito è quello a carico di Carmelo Collana, 53 anni, dipendente comunale di Canicattì e di Pietro e Vincenzo Martini, palermitani di 19-21 anni. Le ultime novità del procedimento in corso al Tribunale di Agrigento potrebbero incidere sul peso dell'eventuale pena. Sono infatti arrivati i risultati degli accertamenti in laboratorio disposti dalla Procura sulla qualità del maxicarico sequestrato. Accertamenti che confermerebbero una qualità modesta con un principio attivo che raggiungerebbe appena il 20%, fattore che appunto potrebbe influire sulla decisione del giudice. Il magistrato Luisa Turco, infatti, prima di emettere la sentenza di eventuale condanna o assoluzione, voleva fare chiarezza appunto sull'esatto principio attivo della droga. A tal fine era stato disposto di affidare l'incarico ad un perito, nomina però revocata, in quanto ieri sarebbe arrivata la relazione che attesterebbe il valore al 20%. L'operazione dei carabinieri scattò dopo circa un mese di indagini, fondamentale ai fini investigativi l'uso di un drone che ha confermato la presenza della maxipiantagione. I dettagli forniti in conferenza stampa hanno numeri da capogiro. 10.000 circa le piante di canapa indiana, alte anche circa due metri, ritrovate nascoste tra gli alberi di cachi. Dopo il blitz e l'arresto, niente udienza preliminare per i tre imputati. La procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Subito dopo i difensori hanno chiesto il rito abbreviato.